Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganessimo. Bene, allora, in questa trasmissione avrei dovuto andare avanti con il discorso sulla sospensione del dialogo interno, invece non farò la trasmissione e continuerò la trasmissione sulla sospensione del dialogo interno, ma parlerò della sentenza numero 168 ad opera della Corte Costituzionale. Sentenza numero 168 anno 2005 che praticamente è stata emessa dalla Corte Costituzionale il giorno 29 aprile 2005. Perché parlerò di questa sentenza? Perché questa sentenza, insieme a tutte le altre sentenze a Corte Costituzionale in materia di religione, va a modificare tutta una serie di leggi, tutta una serie di capitoli del codice penale che davano dei vantaggi alla religione cattolica. Cioè il cattolicesimo, in realtà, in Italia, dal punto di vista giuridico, viene declassato da quello che era in passato una religione di Stato a una normale religione, cioè viene equiparato ai culti ammessi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendizio a Stragone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, è l'indirizzo dell'Istituto Militare dei Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Che cos'è un culto ammesso? Dobbiamo riuscire a capire anche questa dicitura che è sempre stata usata. In realtà, il culto ammesso è una dicitura giuridica che c'era in Italia per differenziare il culto ammesso da ciò che era una religione di Stato. Il cattolicesimo è stato riconosciuto a religione di Stato nel 1920 e rotti quando fu stipulato il concordato fra il governo fascista di allora e la religione cattolica. In pratica, successe che lo Stato italiano riconobbe nella religione cattolica un elemento di coesione nazionale. Proprio per riconoscere questo elemento di coesione nazionale della religione cattolica, la religione cattolica venne riconosciuta come religione di Stato. Nel 1948, con l'avvento della Costituzione della Repubblica Italiana, la religione cattolica continuò ad essere religione di Stato in base all'articolo 7 della Costituzione. Ma la Costituzione stessa prevedeva che la religione cattolica non fosse più religione di Stato. Non solo, ma introduceva quella che era nel codice giuridico, non nel codice penale, ma nel codice giuridico in generale, quelli che erano i culti ammessi. I culti ammessi erano tutte quelle religioni che non ostacevano, cioè non erano in contraddizione, non erano in guerra, non erano contrapposte a quello che è l'ordinamento giuridico nazionale e pertanto erano ammesse. In pratica si chiama culto ammesso ogni religione vecchia e nuova, individuale o collettiva che esista in questo paese e che non è espressamente vietata. Quando è che una religione può essere vietata o un culto può essere vietato? Quando contrasta con le leggi dello Stato. Essenzialmente si tratta di leggi del buon costume in realtà, perché? Perché chi ha elaborato quelle leggi pensa a culti di ordine sessuale, di ordine tipo satanista, tipo roba di questo genere, però stavano solo nelle sue fantasie, non stavano nella realtà. Pertanto una religione si dice culto ammesso nella misura in cui non è vietata. I culti ammessi naturalmente sono molti, sono molteplici, sono un numero infinito in questo paese e in tutti i paesi del mondo occidentale. E c'è un'operazione di disprezzo della libertà religiosa messa in essere dall'organizzazione criminale denominata Cattolicesimo che tenta di far credere alle persone attraverso tutta una serie di illazioni, attraverso tutta una serie di depistaggi della ricerca della conoscenza delle persone. Sembra che questo non sia un reato, d'altronde se uno vuole farsi ingannare sono affari suoi. Si tenta di far credere che i culti ammessi siano quella serie di concordati che recentemente lo Stato italiano ha fatto, oltre che con la Chiesa Cattolica anche con le altre confessioni religiose tipo gli evangelici, tipo gli ebrei e altri che sono in programma, la Tavola Valdese per esempio, o altre religioni che sono in contrattazione. Non mi ricordo adesso se l'unione buddista abbia fatto il concordato o stia discutendo o poi i musulmani stiano facendo un concordato. Ebbene, anche se i buddisti, i musulmani e altri gruppi non hanno fatto il concordato, sono comunque culti ammessi nel senso che non sono vietati. Esattamente come la religione pagana boteista, come noi per esempio. Tutte queste strutture religiose si chiamano culti ammessi. Ebbene, solo recentemente lo Stato ha fatto dei concordati con altre forme religiose diverse che non siano la Chiesa Cattolica. Però la Corte Costituzionale ha iniziato già da molti anni, da parecchi anni, esattamente era il 1997, 1996, 1997. Mi dice niente questa data? Erano i momenti in cui noi, dai microfoni di Radio Gama 5, rendevamo coscienti e consapevoli i cattolici che il Dio davanti al quale si mettevano in ginocchio era il macellaio di Sodoma e Gomorra e il Gesù che loro tanto esaltavano. Non era altro che un povero pazzo demente che affermava di essere il figlio del Dio padrone che sarebbe venuto in quella generazione sulle nuvole con grande potenza e stronzate di questo genere. Era quello che fu arrestato con il ragazzino nudo, era quello che sgozzava le persone. Ebbene, nel 1997 noi abbiamo cominciato queste trasmissioni e guarda caso, contemporaneamente, la Corte Costituzionale ha iniziato a legiferare togliendo uno a uno quelli che erano i privilegi della Chiesa Cattolica. Ebbene, l'ultimo dei privilegi che la Corte Costituzionale ha tolto la Chiesa Cattolica è appunto nella sentenza numero 168 che la Corte Costituzionale ha fatto, credo che sia il 29 aprile del 2005 o forse il 28 aprile e adesso non ho la data esatta della... No, ce l'ho la data esatta in effetti. Vediamo un attimo. È alla fine, non all'inizio. Esatto. È fatta così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale il Palazzo della Consulta il 18 aprile 2005. È stata depositata in cancelleria il 29 aprile del 2005. Per cui la sentenza, diciamo così, diciamo che è del 29 aprile del 2005. Ebbene, con questa sentenza la Corte Costituzionale elimina un altro privilegio per la religione cattolica. Vi ricordo che un giudice qui del Veneto un giudice del Tar un delinquente che per me è solo ed esclusivamente un delinquente ha detto io ci sputo sulle sentenze della Chiesa Cattolica per me sono le cose come io voglio che siano. Fu un atto di terrorismo fu quel giudice che decretò di mantenere il crocefisso in aula sputando sulle sentenze della Corte Costituzionale. È un'infamia, una vigliaccata, una porcata, una porcheria. Ebbene, però l'ha fatta. L'ha fatta e nessuno del Consiglio Superiore della Magistratura ne ha censurato il comportamento. E questo è di una gravità immane. Cioè che significa che in questo Paese la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione sentenziano ma alcuni magistrati di periferia si possono permettere il lusso di insultare la consulta, di insultare la Corte di Cassazione, di deriderne le sentenze e di considerare quelle decisioni come carta igienica con cui pulirsi il culo. E questa è una gravità incredibile. Però sta di fatto che questo è successo e di questo ne prendiamo atto. Nonostante questo noi continuiamo nonostante il disprezzo che alcuni magistrati di merda perché sono magistrati da carta igienica hanno nei confronti della Corte Costituzionale nei confronti della Corte di Cassazione noi continuiamo a mantenere valide quelle sentenze e ricordatevi che in giudizio qualora qualcuno andasse in giudizio quelle sentenze fanno testo sul proprio comportamento. Non è che siano sentenze che non esistono. Ebbene quella che vi leggo è la sentenza numero 168 anno 2005. Torniamo un po' indietro con la memoria di un paio d'anni fa circa. Io vi avevo detto che Abdel Smith era stato rinviato a Verona era stato rinviato a giudizio a Verona dal procuratore Papalia per vi ripendi offese alla religione cattolica. Vi avevo detto che quelle denunce nei confronti che erano arrivate nei confronti di Abdel Smith erano delle pagliacciate e di là non ci piove sopra restano delle pagliacciate. L'unica una cosa che vi avevo detto in contrasto con tutte le gran casse dei giornali era che Papalia aveva voluto aveva fatto un favore ad Abdel Smith aveva fatto un favore rinviandolo a giudizio ed è effettivamente un favore che gli ha fatto ad Abdel Smith. In realtà Abdel Smith non ha subito nessun processo ma il giudice del procedimento il giudice per indagini preliminari ha sollevato una prima questione prima ancora di entrare nel merito del processo di Abdel Smith e adesso leggendo la sentenza numero 168 della Corte Costituzionale vedremo qual è la questione allora intanto non vi dico tutti i nomi dei giudici che hanno pronunciato la sentenza ci sono tutti di solito hanno pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 403 primo e secondo comma del codice penale promosso nell'ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Verona con ordinanza del 16 marzo 2004 iscritta al numero 628 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 28 prima serie speciale dell'anno 2004 visto l'atto di costituzione dell'imputato nel processo a quo udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona udito l'avvocato Ugo Fanuzzi per l'imputato ritenuto il fatto primo allora cominciamo con il descrivere il fatto il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 commi primo e secondo del codice penale offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone in riferimento agli articoli 3 primo comma e 8 primo comma della costituzione il giudice rimettente cioè il giudice che si rivolta alla corte costituzionale premette di procedere nei confronti di persone imputate dal reato in esame per aver offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico ai fini della rilevanza della questione il giudice Acquo sottolinea che ove ove l'imputato fra virgolette fosse ritenuto responsabile del reato di cui è l'articolo 403 codice penale non potrebbe beneficiare della riduzione di pena di cui è l'articolo 406 codice penale prevista per i culti ammessi e quindi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge del 25 marzo 1985 numero 121 che ha dato esecuzione all'accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica solo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica non esistendo più una religione di Stato allora proviamo un attimino a spiegare questo passo il giudice che si rivolge alla Corte Costituzionale in questo caso il giudice di Verona e dice signori della Corte Costituzionale io devo giudicare un imputato per il reato di vilipendio alla religione cattolica io non so come andrà il processo dopo lo vedremo questo però se io dovessi condannare questo imputato se io dovessi condannare questo imputato questo imputato sarebbe condannato in base all'articolo 403 del codice penale però non potrebbe beneficiare delle riduzioni di pena che sono previste dall'articolo 406 per chi fa vilipendio nei confronti dei culti ammessi nello Stato cioè se una persona viene qui a Radio Gamma e insulta e fa vilipendio nei confronti di Claudio Simeoni che è responsabile della Federazione Pagana verrebbe condannato a una pena che però sarebbe beneficiata di una riduzione di pena prevista dall'articolo 406 se uno va nel Vaticano se uno va a Roma e fa vilipendio a Ratzinger che è responsabile della Chiesa Cattolica non potrebbe verrebbe condannato non potrebbe però beneficiare della riduzione di pena prevista dall'articolo 406 allora Ratzinger che è responsabile della Chiesa Cattolica e riceve un vilipendio può chi lo ha vilipeso avere una pena maggiore di una persona che va a vilipendere Claudio Simeoni che è responsabile della Federazione Pagana questo è quanto il giudice di Verona chiede della Corte Costituzionale dice praticamente il giudice di Verona vi sembra giusto che uno che fa vilipendio nei confronti di Ratzinger sia condannato a una pena maggiore di una persona che fa vilipendio a Claudio Simeoni della Federazione Pagana questa è la domanda che il giudice di Verona pone alla Corte Costituzionale continua quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente cioè il giudice di Verona rileva che la disciplina censurata prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le offese alla religione cattolica non trovando applicazione in tali ipotesi la diminuzione che l'articolo 406 del codice penale riserva ai soli delitti commessi contro i culti ammessi nello Stato il giudice rileva inoltre che la Corte Costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 404 e 405 del codice penale nella parte in cui si prevedono l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 406 del codice penale anche i casi in cui l'offesa viene portata alla religione cattolica e sia realizzata rispettivamente mediante vilipendio di cose o turbamento di funzioni religiose dice praticamente in sostanza il giudice che ricorre il giudice di Verona che ricorre la Corte Costituzionale guardate che una decisione simile voi l'avete già presa voi già avete dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 404 e 405 nella parte in cui prevedono che non ci sia applicazione delle attenuanti di cui l'articolo 406 anche nei casi in cui l'offesa viene portata al vilipendio di cose o turbamenti di funzioni religiose cioè praticamente gli dice il giudice della Corte Costituzionale voi avete già deciso che le cose dei culti ammessi hanno lo stesso valore delle cose della religione cattolica avete già detto che il turbamento di funzioni religiose della Chiesa cattolica è uguale al turbamento delle funzioni religiose dei culti ammessi guardate che voi gli dice il giudice di Verona della Corte Costituzionale avete già fatto una cosa del genere ad avviso del rimettente poiché tali decisioni hanno radicalmente modificato la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermato il principio delle pari libertà delle varie confessioni religiose ogni differenza di disciplina prevista da altri fattispecie incriminatrici si rivela essere un'inammissibile discriminazione dice siccome ormai se stiamo arrivando all'equiparamento fra quella che fu una religione di stato cioè la religione cattolica e i culti ammessi il fatto stesso che esista l'articolo 403 è una discriminazione rispetto ai culti ammessi il tribunale rimettente solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 403 del codice penale perché prevede per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le offese agli altri culti ammessi nello stato in particolare la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l'articolo 3 primo comma costituzione che consacra la pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza alcuna distinzione di religione nonché con l'articolo 8 primo comma della costituzione secondo cui tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge in data 12 giugno 2004 è pervenuta la corte la nomina del difensore di fiducia dell'imputato la procura speciale e la elezione di domicilio in Roma atti trasmessi dallo stesso difensore per la trattazione della relativa questione davanti alla corte costituzionale il 26 febbraio 2005 il difensore dell'imputato ha quindi presentato memoria con la quale da un lato aderisce alle argomentazioni del tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione alla luce delle precedenti sentenze della corte in materia e dall'altro chiede di allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell'articolo 3 della costituzione al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente cosa significa questo significa che l'avvocato di Abdel Smith manda alla corte costituzionale un'informativa nella quale dice si io concordo con quanto con le osservazioni fatte dal giudice di Verona ma chiedo alla corte che ci sia un pronunciamento ben più vasto e ben più grosso rispetto all'articolo 403 in particolare continua a leggere sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo all'agnosticismo e a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria il difensore dell'imputato chiede alla corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia del tipo additivo ad avviso della difesa la pronuncia richiesta sarebbe infatti l'unico modo per ripristinare la parità di trattamento fra ideologie religiose positive e negative dal momento che le offese all'onore e al decoro di chi crede e chi non crede trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l'onore praticamente il difensore di Abel Smith chiede una sentenza che vada a parificare non tanto non solo le offese fra la religione cattolica e i culti ammessi ma anche le offese contro l'ateismo contro l'agnosticismo oppure una cancellazione totale dell'articolo in questione dice la Corte considerazioni in diritto il Tribunale di Verona solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 403 coma primo e coma secondo del codice penale offese la religione dello Stato mediante vilipendio di persone in quanto punisce con la reclusione fino a due anni che offende la religione mediante vilipendio di chi la professa primo coma e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico secondo coma mentre l'articolo 406 codice penale prevede che la pena è diminuita qualora i medesimi fatti sono commessi contro un culto ammesso nello Stato premesso che a seguito delle modifiche al concordato lateranense recepite con la legge del 25 marzo 1985 numero 121 è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religione diverse da quella cattolica pertanto noi non siamo più considerabili un culto ammesso ma la religione pagana politista in questo momento viene definita dalla corte costituzionale come come religione diversa da quella cattolica il tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una inamissibile discriminazione nei confronti delle altre confessioni religiose come la federazione pagana non c'è scritto come federazione pagana lo aggiungo io in violazione degli articoli 3 primo comma e 8 primo comma della costituzione che sanciscono rispettivamente i principi dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell'eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge preliminar secondo punto preliminarmente si deve precisare che la questione va esaminata entro i limiti del tema decidendum individuati dall'ordinanza di remissione sentenze numero eccetera eccetera rimane perciò estranea il presente giudizio la richiesta prospettata da parte privata di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera norma incriminatrice in quanto volta di introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice cosa dice in pratica la corte costituzionale dice caro avvocato di abdel smith noi possiamo come corte costituzionale agire entro degli ambiti precisi non possiamo introdurre nella legislazione italiana delle cose nuove come corte costituzionale noi possiamo abrogare o non abrogare una legge se troviamo che questa legge non coincide con il dettato costituzionale ma siccome qui si parla solo di religione cattolica e di culti ammessi il nostro scopo come corte costituzionale è quello di equiparare la religione cattolica con altre religioni non possiamo equiparare alla religione cattolica o alle altre religioni l'ateismo o l'agnosticismo pertanto la corte costituzionale non può introdurre degli elementi nuovi nel sistema giuridico italiano può solo abrogare o non abrogare delle leggi o parti delle leggi o parti di cose questo sta dicendo la corte costituzionale all'avvocato di Albert Smith 3 la questione è fondata nell'ultimo decennio questa corte ripetutamente richiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso ha preso in esame per quanto qui specificatamente interessa le fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 402 404 405 del codice penale accogliendo in riferimento agli articoli 3 e 8 della costituzione le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento fra la religione cattolica e le altre religioni in ordine di tempo con la sentenza numero 329 del 1997 vi ricordate 1997 1996 abbiamo cominciato a trasmettere da questa radio nel 1997 lo Stato si stava preparando ad affrontare il giubileo dei cattolici nel 1997 sotto il ministero degli interni di Napolitano venne fuori un rapporto sulle sette che adesso col seno di poi sappiamo che fu un rapporto finalizzato a dire guardate qui non c'è nessun pericolo ma in quel momento nel 1997 la stampa usò quel rapporto per aizzare lo Stato sociale creare allarme sociale e creare colpevolizzazione persecuzione nei confronti di chi non era cattolico ci ricordiamo questo era il 1997 dai microfoni di questa radio avevamo appena cominciato a trasmettere un imbecille come Bisetto Beppe Bisetto aveva pronosticato che sicuramente qualche satanista più o meno si sarebbe spogliato nudo per provocazione in piazza San Pietro ma sappiamo che Beppe Bisetto è un individuo malato malato di morte come i suoi amici del resto hanno dimostrato abbondantemente ebbene quello era il 1997 riprendiamo in ordine di tempo con la sentenza numero 329 del 1997 la corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 404 primo comma del codice penale offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose nella parte in cui prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni anziché la pena diminuita prevista dall'articolo 406 del codice penale per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato con la sentenza numero 508 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 402 codice penale vilipendio della religione dello Stato eliminando dall'ordinamento la fattispecie incriminatrice in quanto il rispetto della riserva assoluta di legge in materia penale non avrebbe consentito di estendere ai culti ammessi la tutela predisposta dalla norma censurata solo nei confronti della Chiesa Cattolica infine con la sentenza numero 327 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale turbamento di funzioni religiose del culto cattolico nella parte in cui per tali fatti prevede pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti le esigenze costituzionali di uguale protezione del sentimento religioso che sottostanno all'equiparazione del trattimento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica sia alle altre confessioni religiose già affermate da questa corte nelle sentenze numero 329 1997 e numero 327 2002 sono riconducibili da un lato al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dell'articolo 3 della costituzione dall'altro è il principio di laicità o non confessionalità dello stato per cui vedi le sentenze numero 203 del 1889 259 del 1990 numero 195 del 1993 numero 329 del 1997 numero 508 del 2000 numero 327 del 2002 che implica tra l'altro equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni secondo quanto disposto dall'articolo 8 della costituzione dove è appunto sancita l'uguaglianza e la libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge tali esigenze sono evidentemente presenti anche in relazione all'attuale questione di legittimità costituzionale che riguarda l'unica frattispecie incriminatrice fra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla religione cattolica poiché tutte le norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso che l'articolo 403 del codice penale tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto anche tale norma appare connotata dalla inammissibile discriminazione sanzionatoria fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa corte si pone pertanto in riferimento agli articoli 3 primo comma e 8 primo comma della costituzione la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 403 primo comma e secondo comma codice penale nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da due a tre anni anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per questi motivi la corte costituzionale dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 403 primo e secondo comma del codice penale nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni o da uno a tre anni anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 del codice penna dello stesso codice così deciso in Roma nella sede della corte costituzionale palazzo da consulta 18 aprile 2005 questa è la sentenza della corte costituzionale in pratica cosa dice questa sentenza cattolici cattolici siete esattamente uguali ai satanisti i satanisti hanno esattamente gli stessi diritti religiosi che avete voi e voi non vi potete permettere il lusso di sputtanare vilipendere insultare i satanisti parlo di satanisti visto che i cattolici c'erano molto i satanisti la gatto a trocchi sta facendo la cretina su tutte le reti nazionali parlando di mezzo milione di satanisti che sarebbero là pronti a saltargli addosso più o meno una roba di sto genere ebbene sto usando quello ma posso usare i pagani posso usare i testimoni di Geova posso usare i musulmani posso usare i buddhisti posso usare il confucianesimo insomma non è che mi suona molto bene visto che ho più una filosofia posso usare i taoisti posso usare i shintoisti posso usare i saibaba i arancioni posso usare quello che qualunque altro culto ammesso ogni culto ammesso ha gli stessi diritti dei cattolici e i cattolici non possono fare vilipendio nei confronti degli altri culti ammessi o meglio neanche gli altri culti ammessi possono fare vilipendio nei confronti dei cattolici ma non è colpa degli altri culti ammessi se il dio dei cattolici è un criminale assassino che va in giro vantandosi di aver annientato tutta l'umanità col diluvio universale non è colpa dei culti ammessi se i cattolici hanno un profeta che si chiama pazzo di Nazareth che va in giro a dire di sgozzare tutti quelli che non si mettono in ginocchio davanti a lui cioè ci sono un po' di complicazioni è chiaro che il cattolicesimo che è sempre stata una religione che ha fatto della sua forza e del suo potere la possibilità di costringere le persone in ginocchio di stuprarle di annientarle con un'impunità veramente arrogante cioè la magistratura che gli ha lasciati stuprare i bambini nel più becero dei terrorismi che questa nazione abbia assistito una cosa veramente infame bene è chiaro che i cattolici che avevano questa sindrome da onnipotenza questa sindrome di poter far tutto che anche oggi agiscono a livello di mafia agiscono a livello di terrorismo facendosi credere chissà quali mostre quali invece non vengono niente cioè il loro peso elettorale è praticamente zero basterebbe che un partito politico decidesse di tirar fuori un attimo i coglioni e cominciasse a ribadire i propri principi in antagonismo a quelli cattolici che il cattolicesimo sparisce lo sta dimostrando abbastanza bene Zapatero in Spagna mi sembra una cosa di questo genere ebbene non è colpa nostra se i cattolici sono col culo per terra è la loro storia sono le loro scelte nella loro esistenza e d'altronde nel culo per terra gli hanno portati tutti quegli uomini che hanno agito hanno agito affinché la libertà degli uomini fosse un dettato costituzionale fosse sancita mediante leggi ebbene oggi come oggi dal punto di vista giuridico insultare Ratzinger o insultare Claudio Simeoni è esattamente la stessa cosa il problema grosso il problema veramente grosso sono i rapporti di forza Ratzinger ha miliardi con cui pagare avvocati Claudio Simeoni non ha un avvocato che gli può perorare le cause pertanto un magistrato cattolico può insultare Claudio Simeoni nascondendo le denunce che fa Claudio Simeoni ma questo è infame cioè questo fa parte dei rapporti di forza che dal punto di vista mafia dal punto di vista dell'organizzazione mafiosa vengono costruiti nel territorio non fa parte di quello che è il sistema giuridico il sistema giuridico è quello che viene determinato dalla Corte Costituzionale che equipara tutti i culti ammessi nello Stato alla stessa legge cioè tutte le persone sono uguali davanti alla legge la legge determina l'uguaglianza delle persone non c'è qualcuno che si sottrae dalla legge e fino a ieri i cattolici godevano dell'impunità assoluta ebbene oggi restano in mano quel loro dio che è un criminale assassino che dovrebbe essere imputato per genocidio per strage per distruzione di interi popoli e hanno solo quello e anche quando tentano di utilizzare i principi religiosi e filosofici dei neoplatonici gli stessi neoplatonici che hanno torturato ammazzato massacrato ma forse sono dei bestiame beh il loro dio è solo quell'assassino criminale che è il macellaio di Sodome Gomorra è quel dio che ha mandato il diluvio universale è quel becero assassino che ammazza tutti i bambini indifesi egiziani perché lui gode così a lui piace così per cui questo è il dio dei cristiani davanti a questo i cristiani mettono in ginocchio i loro figli e la corte costituzionale ha dichiarato questo ha manifestato che è questo e i cristiani devono affrontare la società con i loro principi non derubando gli altri ed è importante che noi riusciamo a capire questo perché altrimenti non riusciamo a capire nemmeno chi abbiamo davanti prima di dare via le telefonate vi faccio un altro appunto perché in realtà sia la corte costituzionale sia la corte di cassazione stanno introducendo ormai da anni principi pagani all'interno della società quali sono i principi pagani i principi pagani sono i principi di uguaglianza degli uomini davanti alla legge uguaglianza di tutti i soggetti giuridici davanti alla legge che è un principio che è sconosciuto dai cattolici quando per esempio i cattolici parlano del principio di uguaglianza quello che parla del principio di uguaglianza parla agli altri in ginocchio davanti a lui non parla di uguaglianza a se stesso il pazzo di Nazareth lui dice io sono il padrone figlio del dio padrone e voi vi dovete mettere in ginocchio davanti a me voi dovete essere uguali ma uguali in ginocchio davanti a me non uguali a me uguali al dio padrone per cui non è un principio di uguaglianza quello dei cristiani quello dei cristiani è il principio dell'uguaglianza del campo di starminio è il principio di uguaglianza proprio del nazismo ed è vergognoso vedere riprodurre i principi del nazismo ancora in Italia e non sto parlando dei principi del nazismo come ne può parlare chi si legge il main camp sto parlando del principio del nazismo all'interno di un campo di starminio in attività sto parlando di quelle relazioni che il cattolicesimo riproduce ed è veramente una vergogna ebbene sia la corte costituzionale che la corte di Cassazione stanno introducendo dei principi pagani nella società e il principio pagano fondamentale è che le persone sono dei soggetti di diritto costituzionale sono dei soggetti di diritto l'ultimo l'abbiamo dalla Cassazione ed è una decisione della Cassazione che io vi leggo soltanto l'avviso che è arrivato su Televideo Rai che ho raccolto anche questa mattina perché anche questa mattina me lo sono scaricato per cui alla pagina mi sembra 163 Televideo Rai stamattina c'era comunque non è importante perché tanto ne parleranno anche i giornali di oggi o forse quelli domani dice questa sentenza della Cassazione la dignità dei figli deve essere rispettata dai genitori i quali nell'educare i bambini devono bandire qualsiasi forma di violenza anche psichica una sentenza della sesta sezione penale della Cassazione stabilisce che costituisce abuso anche il comportamento doloso e attivo omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia svaluta denigra sottopone a servizio psicologico un bambino causandogli pericoli per la salute anche se è compiuto con seggettiva intenzione correttiva e disciplinare questo è un principio pagano perché è un principio secondo cui il bambino non è altro che un soggetto di diritto costituzionale non è un oggetto di possesso da parte del dio padrone da parte di un ratzinger da parte di un padre padrone che lo può bastonare il bambino è un soggetto un portatore di diritti e i suoi diritti devono essere rispettati e devono essere devono essere anche trasmessi ad opera delle persone che non lo hanno lui come in possesso ma hanno una relazione con lui proprio per guidarlo nella costruzione di se stesso della vita per cui non è una bestia da mettere da allevare come fanno i cristiani e come nel detto i cristiani ma è un soggetto di diritto e questo è un principio pagano che la corte di cassazione sta introducendo una società è chiaro che poi i principi che passino dalla corte di cassazione alla corte costituzionale diventino parte dei comportamenti delle persone e là ci vuole un po' di tempo e tanti sforzi e tanto 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 dolore bene io a questo punto do via le telefonate 049 700 700 e nel frattempo vi parlerò di un po' di notizie stampa la prima notizia di cui parliamo Spagna vediamo un attimo pronto pronto e ciao Claudio sono Giuseppe Cittadella ciao Giuseppe mi penso che sia nell'argomento volevo aspetta che rimbomba un po' colar volevo chiederti la distinzione dei termini culto sette oriti e che cosa ne pensi delle medium grazie ciao 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 allora innanzitutto le medium le prendi e le butti via perché non esiste una medium fra te e il mondo io conosco la capacità degli uomini e delle persone di alterare la percezione però le persone lo fanno per se stesse chi si pone per altri non fa altro che imitare tipo i santi cattolici che sono delle truffe prima di tutto sette è un termine che non esiste riti sono tutti quegli atti tutti quegli atteggiamenti con cui una persona trasmette al mondo le proprie intenzioni le proprie azioni e a quelle azioni il mondo risponde pertanto i riti sono una cosa poi dipendono dalle persone che le fanno poi mi avevi chiesto sette vabbè è una cosa non usare culti il culto è l'insieme di principi l'insieme di azioni che caratterizzano un'organizzazione religiosa questo è in sintesi la cosa comunque ricordo una cosa i medium pigliali e buttali via questo è dopo di che i riti sono quelli che fai tu quelli che ti piace fare ogni azione che noi facciamo in realtà è un rito e per quanto riguarda la parola sette diventa un insulto tanto per essere chiari spagna i sindaci del partito popolare no alle nozze gay nessuna unione gay verrà celebrata nei comuni di Valladolid Leon Avila e Pontos bene è un'altra battaglia fatta la legge è necessario continuare le battaglie questo porterà ai gay spagnoli visto che i matrimoni gay saranno equiparati ai matrimoni fra eterosessuali naturalmente io non vado a interessarmi di cosa fa il mio vicino il mio vicino fa le cose che gli piacciono e ha il diritto di fare le cose che gli piacciono nella misura in cui le cose che gli piacciono non costituiscono violenza per cui io non vado a rompere scatto al mio vicino che il mio vicino sia eterosessuale sia gay non so sia lesbica sono affari suoi e ha il diritto di farlo come io ho il diritto alle mie pratiche qualora non costituiscano violenza soltanto il terrorismo cattolico tenta ad imporre agli altri di fare quello che piace a lui ma questo è terrorismo questa è vigliaccheria questo è un modo per tentare di distruggere la società e naturalmente alcuni sindaci cristiani non vorranno fare le nozze gay benissimo per i gay spagnoli sarà un'altra battaglia pronto pronto dimmi mi sono Giovanni ehmi eh dimmi quanto odio che te che in corpo mi? mi sa che te che ti odio quanto odio se ti asci il telefono per telefonarmi vuol dire che te un odio feroce per la vita ma non ti vergogni ma non ti vergogni ma te senti così varme che ti ho bisogno di telefonarmi ma non ma non ti vergogni da dover stuprare i bambini non ti vergogni a insultare le persone non ti vergogni ad insultare la legge non ti vergogni di tutto quello che hai fatto nella tua vita ancora continua ad insultare le persone ma vai a cagare vigliaco sei un vigliaco e come te vado a frisciare solo per stuprare i bambini strutto eccolo qua se volete sentirvi un cristiano questo è un cristiano il suo odio per la vita è tutta là perché in Europa le chiese si svuotano a proposito di Zappatero e di un intervento di Timothy Garson Ash vorrei a questo proposito essere brusco e schietto anch'io io credo che è proprio la consapevolezza della scristianizzazione della società europea in altri parti del mondo le cose stanno diversamente abbia indotto Giovanni Paolo II a prendere in contropiede le gerarchie della Chiesa Cattolica e a farsi avanti in prima persona come un pellegrino ebbene questa sceneggiata di questo criminale che è Giovanni Paolo II non ha fatto altro che nascondere quello che è la fine e la morte della Chiesa Cattolica io chiudo qui la trasmissione di magia stragoneria e paganesimo vi do appuntamento per giovedì prossimo e giovedì prossimo continueremo la trasmissione bene avete sentito anche l'odio che ha il cristianesimo per la vita che ha per la società civile di questo personaggio ricordatevi sempre questi personaggi li troverete sempre come sciacalli assassini criminali delinquenti e saranno pronti ad uccidere qualunque cosa pur di soddisfare la loro ansia di morte la psichiatria li ha già studiati bene allora vi do appuntamento per giovedì mando subito la pubblicità e al sentimento ciao ciao